12-12 un po' più avanti con Paolino senti a sommaggio primo 26 e 20 un numero elevato di atleti questa prima edizione è nottunna del Villaro Verita e questo naturalmente farà piacere all'organizzazione dalla quale chiediamo il prossimo anno di fare dove vai? Di qua, di qua qui con segnale seconda Laura Cavara seconda Laura Cavara terza terza è l'Alessandra De Soppi terza andiamo adesso a arrivare la Sonia Marongio Sonia Marongio quattro Laura come fa Laura? ecco la Sonia Marongio al quarto posto staccate il cartellino se ce la fate così fate meno coda possibile più avanti con il tavolo Sergio andate più avanti che qui c'è già la coda bravi ragazzi complimenti per la vostra gara anche arrivare anche la Marina Gorra staccate fuori il cartellino toglietelo dalla la limogro di ce lo fanno di Nairo Marina abbiamo ripreso ci vediamo adesso più spesso forza ragazzi se le forze se le forze ne avete ancora un po' staccate il cartellino toglietelo dal Nailo e consegnatelo al tavolo di arrivo come vedete volate sino alla fine voglio conquistare anche una posizione pure non sapendo se entra in classifica ma questo è lo spirito che anima i nostri concorrenti sino alla fine battaglia sino all'ultimo centimetro anche per superare l'amico che è rivale in questa occasione e che rivale anche la Marina Campagnaro bravi ragazzi complimenti ricorda chi si vuole fermare nel campo sportivo si mangia non so se è gratis qualcosa comunque è un vetro del toro era gratis il resto vi disse se lo volete lo potete acquistare consumare il vostro pasto e poi ritornare alle nostre invitazioni domani per chi vuole a consenze c'è una gara allenamento oppure stretching per il vostro sforzo della serata tra i percorsi a scelta di 6, 12 e 18 km arrivata anche la Carla Pagin arrivano tutti si Marra e Ariano chiusi in tempo quindi non possono fermarsi all'angolo bene il draffino io scherzo naturalmente per sollevare gli atleti dalla fatica ogni tanto un contatto anche così scherzoso va bene bravi ragazzi comunque è arrivata anche Lorino Marangoli anche arrivatore della gara di Lignar ricordo che la gara è stata anticipata al Venertì anziché al sabato il volantino poi lo trovate sull'auto pubblicitaria staccate il cartellino se riuscite toglietelo dalla convenzione di Naio Mario ma no va tutto va è di Nara vai sulla macchina è di Nara senti il volantino perché tra poco li tiro via tra poco mi devo spostare con tutto quindi chi ancora non la raccolta i volantini lo faccia subito e arrivano tutti in una volta io tra breve dovrò staccare l'impianto perché lo devo riproporre tra pochi minuti per le premiazioni in altra parte comunque ricordo che se passate allo stand Herbalife riceverete un buono gratuito per la valutazione personalizzata deve essere con l'analisi completa della massa corpore tutto questo presso lo stand Herbalife che trovate in prossimità del luogo dell'iscrizione adesso chiamo io l'interessato vediamo se lo trovo Taviano Taviano Lanzarin Cugin ci sei? è arrivato allo scuolo ci siamo tutti andiamo a casa bravissimo Mauro Mazzoni è arrivata anche lei molto bene Lanzarin Salamiano per favore bravissimo 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 non ti preoccupare che mamma arriva vedai che arriva la mamma ce la partiamo tutti in massa anche in bianca eh forza ragazzi la gara è terminata bravissimi bravissimi gara con voi tanti sono sconchiate le blu eh ce l'hai fatta eh l'hai lasciata indietro eh stasera hai vinto la battaglia arriva allora vieni a lavorare Angelo questa sera Mario è contento perché ti ha battuto dimenticandosi di quando lo battivi te vieni eccola qua pensa è soddisfatto perché ti ha battuto stasera hai tempo no ok mi dimentico sempre ecco mi sta arrivando anche Tana Picova 34 poi vicino al Gianni Carozzi brava brava molto bene che grande treano che domani